buongiorno oggi ci troviamo in zona capirro e vi mostriamo questa splendida villa bifamiliare con rifiniture di pregio la villa è su due livelli ed è grande 180 metri quadri circa al piano terra appena varcata la porta d'ingresso ci accoglie un'ampia zona living sapientemente divisa dal mobilio grande salone ottimo per ricevere ospiti sala da pranzo e cucina corredata da un ampio vano adibito a dispensa porta finestra finestre doppie scorrevoli e lucernario donano all'ambiente notevole luminosità attraversando il disimpegno giunciamo in un ampio vano da poter utilizzare come camera da letto o anche come studio come si preferisce in base alle proprie esigenze e infine un elegante bagno moderno una comoda scala rivestita in legno ci accompagna nella zona notte che è così composta un'ampia camera da letto matrimoniale con una comodissima cabina armadio una spaziosa cameretta un elegante bagno con sanitari sospesi doppio lavabo e box doccia che diventa vasca ed infine una lavanderia stireria una lavanderia stireria